Musica Benvenuti a questa edizione in diretta dell'OISTG in apertura. Nel corso del 2013 la protezione civile regionale del Lazio ha effettuato circa 2.500 interventi con il recupero di 73 dispersi. E quanto è stato reso noto in Regione nel corso della cerimonia di premiazione da parte del Governatore Nicola Zingaretti, dagli operatori che a Capodanno hanno salvato la donna e i due bambini dispersi sul Monte Livata. Sentiamo in questa intervista i numeri della protezione civile in quella zona. Ci può raccontare come funziona il vostro centro? Quanti uomini siete? Che tipo di interventi fate? Il nostro centro è attivo a H24, ci siamo sempre. Gli interventi facciamo tutti i tipi di intervento, ci è pure capitato altre volte di andare a fare queste ricerche. Le altre volte qualcuna è andata male, la maggior parte sono andate tutte bene a un buon fine. Erano tutti importanti chiaramente, però quando si tratta dei bambini come sono andate le cose qui ha dato un po' più di risonanza alla cosa. Però quando si va a fare la ricerca sono tutti importanti perché sono persone che stanno in difficoltà. Ma anche interventi di primo soccorso sanitario? No, abbiamo l'ambulanza, noi ci abbiamo tutto, facciamo l'ingendio boschivo, facciamo i trasporti con l'ambulanza, facciamo i trasporti ma non soccorso, abbiamo l'ambulanza però facciamo i trasporti e basta. Facciamo tutte le attività in relazione alla protezione civile, abbiamo partecipato a tutte queste emergenze che ci sono state in Italia cominciando dall'Irpini a tutt'oggi e poi sono sei anni che durante l'estate facciamo i campi scuola di protezione civile proprio ai bambini da 9 a 14 anni, ora sono sette anni. Abbiamo avuto per cinque anni i ragazzi del servizio civile facevamo che in quel momento facevamo più cose perché avendo a disposizione tutti i giorni i ragazzi potevamo far fronte a tante cose, insomma tutte le cose che venivano richieste nell'ambito della Valle dell'Aniene perché noi facciamo parte del coordinamento della comunità montana, più facciamo parte dell'associazione nazionale dell'Aprocibe Arci. I fondi sono sufficienti o dei subito tagli? Diciamo no, all'inizio sì, adesso ogni anno scazzeggiano sempre di più e non ce se fa e realmente ci dobbiamo molto spesso, ci mettiamo i soldi, le mani in tasca per tirare fuori qualcosa che ci rimettiamo, pure noi insomma alla fine lo facciamo perché è la passione. Allarme ambulanza a Roma e provincia. Lanciarlo è stato il segretario della funzione pubblica CGL di Roma e Lazio, Natale di Cola, secondo il quale oltre un quarto dei mezzi di soccorso sono fermi negli ospedali. Ieri almeno 39 ambulanze del 118 erano ferme nei pronto soccorso di diversi ospedali di Roma e provincia. Oltre al persistere dei blocchi delle ambulanze un'altra situazione critica sta avvenendo alla luce. La mancanza assoluta di posti letto nelle terapie intensive e di rianimazioni. Parlano i numeri che bene raffigurano più di qualsiasi altro grido d'allarme. Dal 1 gennaio 2014 su 350 richieste di posti letto critico, solo 50 sono state evasi dalla centrale operativa regionale. Si tratta, ha spiegato ancora, di cola di giornate di ordinaria follia, drammatiche per i cittadini, umilianti per gli operatori del servizio 118, gravissime e anche inaccettabili dal punto di vista etico e legale. Cambiamo argomento, è finito ieri il commissariamento dei rifiuti a Roma, affidato al prefetto Groffredo Sottile, ma l'immodizia della capitale sembra ancora lontana dalla gestione ordinaria. Pochi giorni dall'incontro con il Ministero dell'Ambiente, il sindaco Ignazio Marino ammette che i poteri speciali servono ancora. Probabilmente, ha detto il primo cittadino, è necessario che ci sia una figura che ha il potere di individuare una discarica di servizio e prendere delle decisioni che con i poteri straordinari sono più semplici. Marina ha spiegato di essere al lavoro per individuare una piccola discarica di servizio perché si vuole arrivare a quasi il 70% di differenziata, riciclo e riuso, alla rigenerazione di gas attraverso la digestione della parte organica di rifiuti. Quanto ad Amma parla di un piano mio e poi messo in campo durante le feste e promette un cambiamento totale, a partire da nuovi vertici, la cui nomina attesa nell'Assemblea dei Socii di domani, giovedì 9 gennaio. Quanto all'ipotesi di una nuova parentopoli con assunzioni maturate nei giorni in cui a Roma imperversava il caos rifiuti, l'Ama risponde così. Nessuna nuova assunzione il 21 dicembre del 2011 in seguito alla liquidazione di Marco Polo, Ama siglato con il Comune di Roma un accordo che prevedeva il riassorbimento da parte di Ama dell'intera forza lavoro di Marco Polo, cioè di 239 persone. E corrisponde a circa 25 milioni di euro il taglio sui costi della politica effettuato sinora dalla giunta Zingaretti. Le spese per il Consiglio sono passate nell'ultimo anno da 85 mila a 50 milioni di euro. Lo dice l'indagine dell'EURES presentata dalla Wille di Roma e Lazio che riguarda il TN 2011-2013 che sottolinea il taglionetto che porta la nostra regione Lazio a un livello di spesa pro capite inferiore alla media nazionale. Oggi il Lazio non ha più la palma della regione, più sprecona d'Italia. La riduzione delle spese sta riguardando l'intera macchina amministrativa, inclusa la galassia delle società partecipate e dei consigli di amministrazione. Finora sono 7 le società che sono state eliminate e 75 le poltrone nei CDA. L'amministrazione regionale conclude la nota, continuerà sulla strada della razionalizzazione e della riduzione di tutti gli sprechi, un obiettivo fondamentale per la stessa credibilità dell'istituzione regionale. Ed è un vaso di Pandora quello che la rivista Nature ha aperto sulla vicenda Stamina. Dai documenti che la rivista ha potuto visionare emergono seri e profondi dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza e l'efficacia del medono e sulla validità di un protocollo in parte copiato da Wikipedia, come avevano rilevato gli esperti del primo comitato scientifico istituito dal Ministero della Salute per esprimere un parere sul metodo Stamina. Imprecisioni, omissioni, lacune sono evidenziate dai verbali del comitato scientifico del Ministero che si era detto contrario alla segretezza circa il protocollo imposto dal presidente della fondazione Stamina, Davide Vannoni. Dai verbali del comitato scientifico emergono, scrive ancora Nature, serie imperfezioni e omissioni nel protocollo Stamina. Tra queste un'apparente ignoranza della biologia delle cellule staminali. Gli esperti rilevano inoltre che il protocollo non contiene un metodo per lo screening di patogeni come prioni o virus, che il metodo può generare un mix di cellule diverse come precursori di cellule del sangue e frammenti di osso, che non include un metodo per far differenziare le cellule staminali mesenchimali in cellule nervose. Dai verbali emergono oltre che i trattamenti non sono standardizzati e che sezioni del protocollo sono copiate da Wikipedia. Nature riferisce inoltre di perplessità e dubbi del comitato sulla necessità di tenere sotto segreto l'intero protocollo. L'Italia è il paese europeo dove il morbillo colpisce di più con quasi un caso su tre tra quelli che si verificano nell'Unione Europea che viene identificato nel nostro paese. Lo afferma l'ultimo rapporto dell'Unione Europea Center of Disease Control pubblicato sul sito dell'agenzia secondo cui l'obiettivo dell'eliminazione di questa malattia è ancora fuori portati. Il documento si riferisce al periodo tra novembre 2012 e ottobre 2013 in cui sono stati censiti 12.000 casi di cui 3.400 soltanto in Italia con Gran Bretagna, Germania, Olanda e Romania nella lista dei cattivi insieme a noi. Nell'80% dei casi la persona colpita non era vaccinata mentre in un altro 9% la vaccinazione era incompleta mentre la fascia di età più colpita è quella dei bambini al di sotto dell'anno di età. Bene questa era l'ultima notizia in diretta alla nostra edizione dello ISTG. L'appuntamento è per domani ancora per una nuova edizione. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie.